Che carini. È davvero bello quando ci si apre l'uno con l'altro. Secondo me si piacciono. I tuoi sono in America? Sì, hanno, devo calcolare, ho 86 anni. La mia famiglia è proprio un spettacolo, secondo me. 68 anni di matrimonio, non senza spagli, non senza litigare, non senza frizione, sempre con amore. Che bello però. Ti ha mostrato a noi sempre.